Tecnostrutture Buongiorno da Tecnostrutture, sono Alessandro Baldo, responsabile dei montaggi NPS. Ci troviamo nell'isola di Gozzo, Repubblica di Malta, dove appena due mesi fa abbiamo installato il primo pilastro per la nuova Barts Medical School. Ed ora siamo alle battute finali, infatti fra qualche giorno installeremo il quinto e ultimo impalcato di questa struttura. In questa commessa si è utilizzato il sistema NPS Air, che si compone dell'innovativo solaio Air Floor brevettato da Tecnostrutture. Il solaio Air Floor, con la sua leggerezza, è stata la scelta ideale, perché in un'area così particolare ha facilitato sia il trasporto che il montaggio. Ma questi non sono gli unici vantaggi del solaio Air Floor. Infatti la sua leggerezza ha permesso una sensibile riduzione della massa sismica, portando benefici sia alle fondazioni che ai set in calcestruzzo, riducendo così tempi e costi dell'esecuzione in opera. Così si costruisce oggi, con NPS Air, la migliore soluzione al solaio in opera. Così si costruisce oggi, con NPS Air, la migliore soluzione al solaio in opera.